Bene, buon sabato a tutti! Ancora una volta, se si dovesse cercare di descrivere com'è Dio, potrebbe essere qualcosa di difficile o di scoraggiante, ma le varie persone che nel corso del tempo hanno scritto la Bibbia, spesso hanno riflettuto sul mistero di Dio e hanno costantemente descritto il carattere di Dio in questo modo, come lo troviamo in Esodo 34,6. L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Abbiamo già visto il Dio misericordioso, abbiamo visto il Dio pietoso e adesso vedremo il Dio lento all'ira. Quindi ci concentreremo su questa terza frase o su questa terza caratteristica di Dio e potrebbe sorprendere alcuni perché spesso e volentieri il Dio della Bibbia viene visto come? Viene visto per lo più come arrabbiato, che colpisce le persone per i loro peccati, no? In realtà, analizzando la Bibbia scopriamo che l'ira di Dio è molto più articolata, è molto più complessa ed è molto più interessante di quello che può sembrare. Cominciamo ancora una volta dall'ebraico, in cui la frase lento all'ira si pronuncia Erek Appaim, o letteralmente tradotto lungo di naso. Ma cosa c'entra la pazienza con un naso lungo? Apriamo nella nostra Bibbia il libro di Genesi al capitolo 39, il versetto 19. Così, quando il suo padrone udì le parole di sua moglie, che ella le parlava in questo modo dicendo, il tuo servo mi ha fatto questo, traduco letteralmente, il suo naso ardeva. Questa è la traduzione letterale di questo passaggio biblico. Perché dobbiamo partire da un presupposto. In ebraico, il modo comune, in ebraico biblico, il modo comune di poter dire che qualcuno è arrabbiato è l'espressione il naso brucia. Perché? Ad esempio, come nella storia che abbiamo letto, in questo caso di Potifar, che pensa che Giuseppe abbia cercato di fare violenza contro sua moglie, il termine ira, si accese ed ira, noi l'abbiamo tradotto con si accese ed ira, in realtà in originale il suo naso ardeva, il suo naso bruciava. Perché di solito cosa succede quando qualcuno si arrabbia? E si arrabbia in maniera molto forte che il suo viso diventa tutto rosso. E quindi il naso, in particolare, diventa rosso anch'esso. E quindi c'è questo modo di dire ebraico di naso che arde, naso che brucia, o naso caldo, per indicare il modo in cui ci si scalda quando si è pieni di rabbia. E ovviamente le nostre traduzioni ce lo riportano con si accese ed ira, perché chiaramente è una figura, è un modo di dire, è un'espressione che significa quello, una persona che si è accesa d'ira. E partendo appunto da questa curiosità, da questa caratteristica, quando una persona è particolarmente paziente, si dice o viene chiamata dal naso lungo. Perché? Perché ci vuole molto tempo prima che questo naso si scaldi, prima che cominci a bruciare. E quindi anche questa, qualcuno di paziente, si utilizza questa espressione, questo modo di dire che rappresenta appunto la pazienza, la difficoltà di adirarsi o di accendersi improvvisamente d'ira. Ci vuole molto tempo prima che questo naso si scaldi. Leggendo un altro versetto in Proverbi, capitolo 19, versetto 11, abbiamo un proverbio, e ve lo traduco ancora una volta letteralmente. Proverbi 19, 11. La prima parte. La saggezza di un uomo è nel suo naso lungo, ossia, come ce l'abbiamo tradotto qui, è nella sua pazienza, o nel renderlo lento all'ira. Ancora una volta, dal punto di vista di traduzione letterale, originale, ci troviamo questa rappresentazione, questo naso lungo, questa tendenza ad avere pazienza. Una rabbia lenta, qualcuno che non facilmente diventa tutto rosso e acceso di rabbia. Ora, nella Bibbia possiamo notare che, tra virgolette, Dio si arrabbia numerose volte, ma non stanno parlando di una figura che è comune o è associabile alle caratteristiche umane, si tratta appunto di modi di dire, di metafori che vengono utilizzati nella nostra esperienza di rabbia, di calore, di ira, per descrivere come si sente Dio quando a assiste alla malvagità umana. Per farvi un esempio, quando vedete un bambino vittima di bullismo, magari al parco giochi o a scuola, cosa succede al vostro animo? come ci si sente quando guardiamo uomini opprimere altri uomini? si accende qualcosa dentro di noi, un senso di ingiustizia rispetto a quello che stiamo vedendo. E quando Dio si arrabbia, si arrabbia per questo, nel vedere uomini che opprimono altri uomini, che si combattono a vicenda e che rovinano il mondo. E nella Bibbia l'ira di Dio è l'espressione della sua giustizia e del suo amore per il mondo. Ma è lento all'ira, il che significa che dà alle persone molto tempo per poter cambiare, molto tempo per potersi ravvedere. Ad esempio, prendendo un altro momento iconico della storia del popolo di Israele, nell'Esodo, quando il Faraone riduce a schiavitù gli israeliti e fa gettare i loro bambini nelle acque, gli fa morire, dopo diversi anni Dio manda Mosè ad affrontare il Faraone. E al Faraone quante possibilità vengono date di lasciare libero il popolo? Dieci, almeno dieci, perché in realtà sicuramente sono state di più. Ma dopo il decimo rifiuto il Faraone esce con i suoi carri per distruggere gli israeliti e Dio lo distrugge nelle acque. La stessa malvagità del Faraone si è ritorta contro di lui e questo è un momento in cui, ad esempio, si accende l'ira di Dio. Ma cosa vogliamo dire quando parliamo della collera di Dio o dell'ira di Dio in realtà? Cosa significa? Scendiamo ancora più in profondità rispetto a questo tema. È una cosa molto intensa, molto profonda su cui riflettere. Dio non sarebbe buono se non si arrabbiasse per la malvagità. Se a noi viene questo senso di impellenza, questo senso di rigetto nei confronti dell'ingiustizia e siamo uomini con una natura peccaminosa, immaginate per Dio, che è giusto, buono e perfetto, cosa deve provare nel vedere l'ingiustizia e la malvagità umana. Se non si fosse arrabbiato per la malvagità del Faraone e non avesse fatto qualcosa a riguardo. E la rabbia di Dio com'è che si esprime? La rabbia di Dio si esprime lasciando l'uomo alle conseguenze delle sue stesse azioni. E questo è il modo in cui si esprime la rabbia di Dio e adesso lo andremo a vedere. vuoi sbattere la testa? Per dieci volte ti ho detto non farlo. Per dieci volte hai assaggiato cosa può voler dire andare incontro e assecondare il tuo peccato. Ma se proprio vuoi insistere, allora ti lascio alle conseguenze delle tue azioni. E questo modo in cui l'ira di Dio si manifesta nelle scritture è ricorrente nella storia del popolo di Israele. Più e più volte, per centinaia di anni, essi continuano a tradire il Dio che li ha salvati dalla loro scredito. E sebbene Dio abbia dato loro molte possibilità per tornare indietro, questi continuano a dare la loro fedeltà agli dei delle altre nazioni. E uno dei momenti più di facile comprensione di questa situazione lo leggiamo in giudici al capitolo 2. I versetti dall'undici al ventidue. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Bal, abbandonando l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese di Egitto, e seguirono altri dei fra gli dei 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 popoli che erano attorno a loro. Si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Essi abbandonarono l'Eterno e servirono Bal e le Asheroth. E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani dei predoni che li spogliarono e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, ai quali non poterono più tener fronte. Dovunque andavano la mano dell'Eterno era contro di loro, portando calamità, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono grandemente angustiati. Poi l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di coloro che li spogliavano. Purtroppo essi non davano ascolto neppure ai loro giudici, ma si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via nella quale avevano camminato con i loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno. Essi però non fecero così. Quando l'Eterno suscitava l'oro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimevano e li angustiavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, e non desistevano affatto dalle loro opere o dalla loro via ostinata. Perciò l'Ira dell'Eterno si accese contro Israele e gli disse, poiché questa nazione ha violato il mio patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non scaccerò più davanti a loro alcuna nazione che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo loro metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. In cosa consiste quindi l'Ira dell'Eterno? Il popolo di Israele cosa faceva in questo caso? Peccava, si allontanava, andato, andava dietro gli altri dei. Il Signore suscitava un giudice, li faceva salvare, moriva il giudice e si era punto a capo, e così via, e così via, e così via. Tutto il libro dei giudici è questo, è il racconto del popolo di Dio che ogni volta che ha la scusa, ogni volta che ha l'opportunità, si va a prostrare ad altri dei. Ma la parte finale di questo versetto, di questi versi che abbiamo letto, è importante. L'Ira dell'Eterno si accese contro Israele, e come si manifesta l'Ira di Dio accesa? Io non scaccerò più davanti a te le nazioni. Non ti posso più proteggere. Finora ho fatto in modo che le nazioni davanti a te venissero scacciate, finché c'è stato Mosè, finché c'è stato Giosuè. Ho potuto scacciare queste popolazioni davanti a te. Ma ora che voi vi siete allontanati, per l'ennesima volta, io non scaccerò più i vostri nemici davanti a voi. Adesso dovrete affrontare le conseguenze delle vostre decisioni. Come dicevamo prima, l'Ira dell'Eterno si rivela in questo modo. Nell'accettare la decisione dell'uomo e lasciare che vada incontro alle conseguenze che a tutti i costi vuole ottenere. Ogni volta che leggiamo nella Bibbia l'Ira dell'Eterno si accese contro gli israeliti, noteremo che segue sempre che Dio li consegnò o li lasciò nelle mani dei nemici. Israele voleva a tutti i costi servire altri dei, gli dei delle altre nazioni, e Dio nella sua giusta ira dà loro ciò che vogliono. E quelle nazioni tornarono indietro e sconfissero Israele. Questo è simile anche a ciò che dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 1, i versetti 18, 24 e 28 prima parte. Romani capitolo 1, versetti 18, 24 e 28 prima parte. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa. L'ira di Dio si accende contro il male fatto dagli uomini. E gli uomini che a tutti i costi vogliono perpetrare questo male, vogliono fare ciò che è male davanti a Dio, Dio li lascia, li lascia fare quello che vogliono. Dio non può o non vuole, più che non può, impedirci di fare quello che vogliamo. Dio ci ha lasciato il libero arbitrio. Dio, per quanto gli è possibile, proverà più e più volte ad avvisarci, più e più volte a darci degli appigli per uscire dalla nostra situazione. Ma quando insistiamo, quando vogliamo a tutti i costi continuare a fare ciò che è male, quando vogliamo essere duri d'orecchia, come è stato detto per il popolo di Israele, Dio lascia che le conseguenze delle nostre azioni avvengano. Ci dà il via libera. Vuoi mettere per forza la mano nel fuoco? Ho provato in tutti i modi a dirti di non farlo. Ma se proprio vuoi farlo, o se proprio vuoi farlo, fallo. Ma la bruciatura che ne deriverà non è la punizione di Dio, è l'incoscienza umana, è il volere a tutti i costi commettere un'azione che porta delle conseguenze negative. Paolo dice che l'ira di Dio si rivela contro la malvagità umana e per tre volte presenta il modo in cui si è manifesta quest'ira di Dio. E Dio lascia le persone ai loro stessi desideri e alle loro decisioni distruttive, anche se ciò porta alla morte, perché Dio rispetta la nostra volontà. E nessuno soffre più di Dio quando noi ci allontaniamo da Lui o quando noi facciamo qualcosa che sarà per il nostro male. perché Dio ci vuole salvare. Ma cosa viene aggiunto sempre? Dopo l'ira di Dio, cosa c'è ogni volta? L'abbiamo visto anche nei versetti che abbiamo letto prima. L'ira di Dio si accese contro il popolo, li lasciò nelle mani dei loro nemici, ma faceva sorgere un giudice per liberarlo. Perché era mosso a compassione. Vi ricordate? La prima parola, il primo termine, l'acum, che abbiamo analizzato, che abbiamo studiato in questo filone, in questa analisi del carattere di Dio, era proprio questo, il suo essere mosso a compassione. E nonostante questa ira, questo lasciare andare l'uomo alle sue decisioni, il suo essere mosso a compassione, era presente ogni volta. Ogni volta tendeva ancora una mano verso il popolo di Israele. E fa così con noi ancora oggi. al capitolo 2 di Romani, versetto 4, ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua longaminità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Cosa ci dice Paolo? Qual è l'obiettivo della benignità di Dio? Portarci al ravvedimento. Gli sforzi di Dio sono volti alla salvezza dell'uomo. Ma è una nostra decisione e Dio rispetta le nostre decisioni. Dio è paziente, dando alle persone il tempo di rinsavire e cambiare. Perché ricordate, l'ira di Dio è una risposta alla malvagità umana ed è basata su un tratto caratteriale più profondo, la sua compassione e il suo amore leale. Dio non si accontenta o non lascia solo che le persone si autodistruggono. Nella Bibbia Dio è in missione di salvataggio. Per questo Gesù è andato a Gerusalemme a morire come dimostrazione dell'amore di Dio per i suoi nemici. Si sarebbe messo al posto del suo popolo che sceglieva l'autodistruzione. Avrebbe preso su di sé le conseguenze delle loro decisioni. Nella vita, nella morte e nella resurrezione di Gesù vediamo l'ira di Dio per il male e il suo amore per le persone. E questi due aspetti lavorano insieme per fornire il perdono e la vita a un'umanità persa nell'autodistruzione. l'ira di Dio è contro il male ma l'amore è verso le sue creature e fino a che ci sarà possibilità fino a che ci sarà occasione fino a che gli si darà l'opportunità Dio continuerà ad intervenire Dio continuerà a cercare di salvare. Giovanni 3,16 lo conosciamo a memoria dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio che chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Un Dio pieno d'ira che punisce che si diverte a fare del male a chi commette peccati non corrisponde alla descrizione biblica che abbiamo di Dio non corrisponde affatto al nostro Padre Celeste analizzando nella Bibbia per comprendere cosa significa l'ira di Dio che si accende comprendiamo che è una sfumatura molto più profonda del nostro modo di intendere l'accendersi ad ira o di diventare tutti rossi per la rabbia di avere come dicevamo all'inizio un naso che arde un naso caldo l'ira di Dio è verso il male e significa lasciarci fare le nostre scelte anche se sono quelle che non gli piacciono per poi offrirci nuovamente la sua mano per tirarci sopra e l'ira di Dio nella Bibbia è molto importante ma non è la fine della storia perché quando Dio si arrabbia e fa giustizia lo fa perché è buono ed è estremamente paziente perché ci dà numerose numerose occasioni per cambiare idea e sta elaborando il suo piano per riportare le persone al suo amore ecco cosa significa che Dio è lento all'ira e allora cari fratelli e sorelle facciamo appello a questo amore di Dio non abusiamo della pazienza di Dio non mettiamoci a giocare col fuoco perché a un certo punto ci scotteremo ed è vero Dio sarà lì eventualmente allenire le nostre ferite ma la volontà di Dio è di evitarci quelle ferite di evitarci quel male quel male di evitare quella scottatura non necessaria e che quindi il Signore ci possa aiutare a comprendere la natura della sua ira e capire che in realtà Dio lo fa perché è buono perché la sua misericordia e la sua pietà sono le caratteristiche che lo muovono a cercare a tutti i costi di salvarci Amen preghiamo Padre nostro che sei nell'alto dei cieli ti ringraziamo Signore per il tuo amore per la tua misericordia per la tua pazienza e perché sei lento all'ira ti ringraziamo Signore perché giorno dopo giorno rinnovi le tue promesse verso di noi perché ci concedi del tempo per poter cambiare idea per poter tornare sulla retta via perché continui a non lasciare la presa con noi ma in ogni momento hai ancora la volontà di salvarci ti chiediamo Signore di aiutarci a fare le scelte giuste nella nostra vita a fare delle scelte consapevoli e ponderate verso il bene che tu possa sempre illuminare il nostro cammino la nostra strada affinché possiamo calcare i passi di Gesù e percorrere il giusto cammino che tu ci poni davanti non ci abbandonare fa sempre che ogni giorno ci possiamo rinnovare la nostra volontà di seguirti la nostra volontà di far parte del tuo popolo per essere tra quel gruppo che quando tornerai ti accoglierà ti ringraziamo per tutte le tue promesse e ti vogliamo fare anche una richiesta particolare per quanti sono sofferenti ammalati nel bisogno che si trovano perseguitati o in zone di guerra voglia tuo Signore intervenire che la tua mano potente possa proteggere tutti i tuoi figli e che tu possa portare giustizia e giudizio perché sei buono perché sei compassionevole ogni grazia ogni benedizione insieme al perdono dei peccati te la chiediamo non perché ne abbiamo merito ma nel nome di Gesù Amen grazie a tutti 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 grazie a tutti